Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Dopo una vita però bentornati. Così senza sigla e senza nulla partiamo subito su un gameplay su un gioco che è uscito ieri, stanotte, ovvero Overwatch. Molti di voi già lo conosceranno, credo, penso, non lo so, però comunque io voglio farmi qualche partita e mostrarvelo. Penso che oggi userò Mercy, era il mio main nella beta, quindi oggi mi farò qualche partita con lei, cioè registrerò le partite con lei e poi magari se farò altri video, non lo so, userò altri. Avrei preferito usare quell'altra, mi viene il nome, come si chiama? Ecco, avrei usato volentieri lei, perché siamo in difesa, però, ma se andiamo di Mercy. Ok, allora, non mi ricordo chi è in squadra. Ah, non avendo tank dovrò saltare da una parte all'altra per curare tutti, perché quando c'è un tank bene o male mi focalizzo su di lui. Ora vediamo... Ok, c'è già Widowmaker che è in difficoltà. Ok, l'ho curata. Oh oh, ancora in difficoltà. Dai, esisti. Ok, un po' tutti in difficoltà qui. Oh cazzarola, tu vieni qui. Eh, non posso resuscitarti, anche non credo l'avrei mai fatto, perché siamo messi abbastanza bene. Tu vieni qui. No, no, ci serve veramente un tank qui. Ci serve un tank perché ci fanno il culo se attaccano in massa. Oh cazzo, non riesco a prenderti. Ai 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 ai. No, no, mi prende il cecchino, mi prende il cecchino. Ok, buono, ma prende il... Dove cazzo vai? Tu... No. Aiutami. Aiutami, 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 aiutami. Oh, dove cazzo va? Oh, la la mia. Dove sono? Ma dov'è la squadra avversaria? Beh, anche loro non sono messi tanto bene. Oh, c'è uno lì. Ammazzalo. Oh, mi fa ammazzare. Affanculo. Aia. No, 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 non va bene. No. No. Da, go! Ah! Ah! No. Qualcuno mi aiuti. Sì, ma è un po' spenta come partita. Allora, le mie opinioni riguardo il gioco è che è spettacolare. Mi piace un sacco la beta. Quando la provai, tipo, un po' di tempo fa, rimasi proprio sbalordito. E non ero neanche interessato. Cioè, la provai giusto per curiosità, perché dovevo registrare un altro video su un altro canale. Quindi dissi, vabbè, facciamolo. Oh. Sorpresissimo. Sorpresissimo. Aia. No, 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 no. Per parlare. Spero di raggiungerli. Vi prego. No, no, no. Devi morire. Devi morire, devi morire. Ok. No. Ma no, mi stavo ammazzando. Aia, aia, aia. No, resisti. Oh, porca putta. Aia. Madonna. No, dove siete tutti? No. Ma dai, ma non ci credo, cazzo. Penso che questa partita durerà più del dovuto. Mi aspettavo finisse, ma ogni volta che sta per scadere il tempo, arrivano in massa e ce la prendiamo nel sedere. Questo succede spesso. Dai. Resisti. Dai. Sì, però. Cazzarola. Fate un po' di attenzione. Aia. No, I got you in my size. No. No, 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 no. Non va bene, non va bene. Va, che è successo? Non lo so. Esploso. No. Difendo io. Aia. Pezzo di merda. Tu, vieni qui. No, 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 no. Aia, cecchino, cecchino. Oh, oh. Dai, 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 dai. Ce la possiamo fare, dai, su. Oh, oh, c'è qualcuno che... Oh, cazzo. No, hanno il tank. No, ragazzi, ragazzi, ci serve un tank, ragazzi. Che cazzo... Ah. Oh. Cazzo. Pezzo di merda. Vattene via. Vattene via. Vi prego, aiutatemi. No. Divisi da un muro. Spingate sto... No, 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 no. C'è il pazzo, c'è il pazzo qui. Oh, cazzo. Che cazzo non riesco a prendere? Dai, 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 dai. Aia, sì, è pappan... Prodo. Dai, ce la possiamo fare. Dai, 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 dai. Oh, cazzo. No, no, non vi riesco a curare. Siete troppo di... Eh, vabbè, dai. Mi tocca fare così perché sennò... Aia, ma ha ghiacciato. Che palle però. Sempre per poco. Ma non... Si può... Non si può far così. E vabbè. Eh, vabbè. Io purtroppo delle volte non resuscito subito quando ce n'è solo uno perché mi sembra uno spreco. Ehi, 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 ehi. Aia, 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 aia. Però che palle così non vinceremo male. Gli ho detto che il tank ci avrebbe Dato parecchi problemi Stai un po' ferma Aia Aia mi vuole far secco Mi vuole uccidere lo so Ok Meno male Ah 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 E vabbè Prima di morire Ho lasciato uno stronzetto Però cazzarola Muogliono come mosche Un po' di amor proprio chiedo Un po' di amor proprio Schiattano subito No dai ma come si fa No così no Mi sono messo nella cacca Allora vediamo se riusciamo Ad aggirarmi un attimino Devo riuscire Ovviamente non dovrei farlo io Però No Aia Mamma mia Era sopra Vabbè Sto già scadendo il tempo No No Non fatemi toccare Non fatemi toccare il payload Dai dai Ci abbiamo fatta Dai Oh mio dio È stata Non è stata difficile Nell'ultimo ho fatto cagare pure io Eh Per carità Però Non è stata così complicata Come partita Vabbè Comunque Spero che Ora guardandoci La light Del 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 giocatore Che ha fatto la giocata migliore È che secondo me È un po' da giustare Questa cosa Che a volte Ci ho giocato un po' Un po' di merda Ehm Guardate Nessuno mi vota Perché sono dei Pezzenti Spero che il gameplay Vi sia piaciuto Ci becchiamo In un altro video Chissà quando Ciao 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 Grazie.